Allora torniamo al punto ancora. Posso fare una piccola considerazione? Rispetto a cosa onorevole? Rispetto alle espulsioni. Il decreto Miniti non tocca minimamente il tema dell'espulsione e il tema dei rimpatri. Ha perfettamente ragione Di Pietro. Noi nel nostro paese abbiamo due tipi di espulsioni. Abbiamo l'espulsione amministrativa, si dà all'espulso un foglio di via sperando che nei sette giorni se ne vada. Questa non è ovviamente l'espulsione che funziona. Poi invece c'è un altro tipo di espulsione che è l'espulsione forzata. Per fare l'espulsione forzata servono alcuni elementi. Primo servono i centri di identificazione ed espulsione che i governi di sinistra hanno smantellato. Secondo serve un periodo di trattenimento all'interno di questi centri sufficiente per poter svolgere tutta quella burocrazia per fare materialmente l'espulsione. Terza cosa servono i soldi. C'è un fondo nella legge Bossi-Finick il fondo per i rimpatri. Ecco questo fondo in questi quattro anni è stato completamente azzerato. Lo dico a Ermini perché nel decreto Minniti per le espulsioni vengono messe qualcosa come 19 milioni di euro. Cioè niente. E l'edizione.